mi sembra ieri quando la domenica mattina mio padre veniva a svegliarmi pronto per andare a fare il nostro solito giro in bicicletta la cosa mi entusiasmava talmente tanto che io già mi svegliavo alcune ore prima oggi le cose sono cambiate io sono cresciuta mio padre un po' invecchiato però una cosa è certa l'unica cosa che non è cambiata sono le nostre uscite le nostre domenica mattina la bici è lo sport che mi accompagna da una vita è lo sport che mi ha fatto avvicinare a mio padre è lo sport che mi libera la mente e che mi fa stare bene la mia famiglia la mia villier grazie a tutti Grazie a tutti